Io mi occupo di analisi e gestione dati per il progetto europeo New Age. Lo scopo del progetto è quello di evidenziare un eventuale effetto di una dieta sana, di uno stile di vita attivo sull'invecchiamento umano. Il mio compito in particolare è quello di gestire, monitorare il flusso dei dati che dai vari centri di ricerca europei fluiscono verso il database centralizzato. Ho anche il compito di memorizzare queste informazioni nella maniera più efficiente possibile in modo da rendere più semplici le analisi che verranno poi svolte. Fare ricerca è bello perché è una sfida contro se stessi, è una sfida a migliorarsi, è una sfida a spingere un po' più in là, è il limite di quello che è la conoscenza. È una sfida inoltre che ti insegna a giocare in squadra perché ormai la ricerca non può trascendere dal mettere insieme conoscenze talmente diverse che in una singola persona non si possono trovare.